Il Covid avanza in campagna, dilagano le varianti del virus che preoccupano sanitari e ricercatori. Nelle scorse ore 473 nuovi positivi su 13.821 tamponi processati. Il tasso di positività si attesta al 3,42% e si conta un nuovo decesso. Dopo lo stop di ferragosto domani riparte a pieno ritmo la campagna vaccinale che punta a intercettare soprattutto i più giovani con numerosi open day prima dose. Domani si parte dalla mostra d'oltremare, mercoledì vaccini alla stazione marittima, alla faggianeria e alla mostra. Il 23 agosto alla faggianeria e alla stazione marittima e per finire il 24 agosto alla mostra. E prosegue il tour del centro mobile vaccinale dell'Asla Napoli 1 nel Cilento arrivando a somministrare circa 2.500 dosi. Mercoledì si continua con i vaccini in vacanza a Sapri, giovedì a Villammare, infine venerdì ad Agropoli. Preoccupa la situazione sull'isola di Ischia, ospedale Rizzolio affollato, contagia raffica tra turisti isolani e scatta il giro di vite dei carabinieri con controlli a tappeto. 36 appartamenti controllati dai militari, 4 le persone denunciate per aver sistemato nelle proprie case senza comunicare l'identità degli alloggiati all'autorità di pubblica sicurezza. Intanto in questi giorni saranno formalizzate le procedure di sospensione e demanzionamento per quei sanitari novax che non hanno proceduto a regolarizzare la propria posizione vaccinandosi.